Non a parte del quinto capitolo della storia il risveglio dell'oscurità di Tekken 8 Siamo sempre in Italia ragazzi, questo è il Colosseo Guardate chi abbiamo adesso Abbiamo Jin Kazama Che deve affrontare l'eroe Smith Vediamo se Jin riuscirà a battere l'eroe Vediamo chi vincerà fra i due Jin Kazama e l'eroe Smith si affronteranno Però devono duellare, devono combattere, non possono perdere tempo a chiacchierare inutilmente Ma insomma, state aspettando, volete combattere, sì o no? O volete parlare in continuazione? Potete ominciare? Bene, ora vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace Grazie Grazie Grazie